Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Nell'arena politica italiana, Giorgia Meloni, la leader carismatica di Fratelli d'Italia, ha destato grande scalpore con una rivelazione che trascende i confini della politica. Durante un'intervista esclusiva, Meloni ha lasciato tutti a bocca aperta dichiarando che sta considerando un passo significativo nella sua vita personale, il matrimonio. Questa dichiarazione ha scatenato un vero e proprio tornado mediatico, con giornalisti e seguaci della politica che si sono messi all'opera per scoprire di più su questa svolta inaspettata nella vita privata della leader. Meloni, nota per la sua discrezione riguardo la sua vita personale, ha sorpreso tutti con questa notizia, aprendo le porte a una serie di interrogativi sul suo misterioso partner e sulle possibili implicazioni di questo nuovo capitolo romantico nella sua carriera politica. L'annuncio ha polarizzato l'opinione pubblica. Da una parte ci sono coloro che lodano la leader per la sua sincerità e il coraggio nel rendere pubblico un aspetto così personale della sua vita. Dall'altra, ci sono coloro che si domandano come questo matrimonio possa influenzare il suo percorso politico. In attesa di dettagli più specifici e di dichiarazioni ufficiali, il mondo è in trepidante attesa, il gossip sul futuro matrimonio di Giorgia Meloni tiene tutti con il fiato sospeso. Questo episodio dimostra che, nel mondo della politica, le sorprese possono nascondersi dietro ogni angolo, pronte a emergere quando meno ci si aspetta. E tu cosa ne pensi di questa notizia? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.